ecco ha ha altro mega videozzo di giochi di pullman ho portato turistrofi adesso vi porto anche questa questa esperienza bassi moletor allora corporatura vai così possiamo non avere la testa verde magari allora ragazzi da qua fa abbastanza schifo anche se ok allora quando voi vedete una bella magliettina blu blu ecco magari un paio di jeans azzurri ok un bel verdone ok modifica personaggi impostazioni impostate delle notizie world map iveco park ah c'è anche iveco ok allora speriamo sia bello ragazzi perché ok introduzione penso che è questa allora guida per rilassarti semplici tutte le funzioni comode sono abilitate realistica alcune funzioni di comodità guida semplificata limitata alle funzionalità realistiche sfida tutti i comandi sono manuali allora facciamo questo perché nome azienda marco drums company lo famo in inglese perché ormai mi dai prova tutorial abilitato ok modalità prova non lo so accetta questa configurazione aziendale allora io volevo provarlo con il mitico volante visto che ho preso tourist trophy e playstation 5 tra l'altro fa veramente pena di grafica e comunque poi lo posterò anche sul 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 canale e ho voluto vedere un attimo come si comporta il migliore che è bassi simulator è come se fosse il farming simulator ok bene ok 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 Ora, non toccisci la radio, ho alcune belle notizie per annunciare. Oggi, una nuova compagnia prenderà il transporte pubblico. A presto, vi vedremo bussare il nostro città giorno e notte. Questo farà è più facile per prendere in tutte le belle belle che Angel Shores ha toccato. Se vuoi trovare il migliore di città? Check out i fantastici restauranti in Oakwood. In la mattina, puoi andare over a West Oakwood e divertire un'esperienza spraulante nightlife. C'è quello che chiamo in Oakwood double combi night, food and party. Vuoi spendere un buon giorno in natura? Justi andare over a Gold Island for a hike. Or have a relax day in Silver Park. È il perfetto spot per prendere un buon libro e divertire il silenzio. Per un giorno di famiglia, andare over a Arnold Park. Ci sono rumori di città che vivono in la fronte, ho dovuto vedere questo per me stesso. Also, se sei into città, tu non sarai disappointi. Non c'è una sola cloud di più in i prossimi mesi. Ma di chiudere! O se vuoi piacere, 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 e experience l'impressive skyscrapers di l'interno dell'interno. Questi e molti più meravigliosi wait a essere trovato. E grazie a tutti i nuovi company di transporte, sarà più facile da mai mai visitare. I'm definitely excited to take the bus home today, but enough talk for now. Let's get to it. Allora, andiamo da lei. I'm really excited to get started on this project. All right, first thing's first. As a bus company, we need a bus. And the great thing is, you get to choose it. Take a look at these three buses. Ok. Allora, vediamo un attimo quale. Il setra, eh? Oh. Questo è il man. Questo è il Mercedes Benz. Oh, great choice. And now, for the best part, take your seat at the wheel. Ok. Oh, the feeling of a brand new bus. Allora... Allora... Allora, bisogna concentrarlo bene. La chiave. Allora, bisogna concentrarlo bene. Accendi i faretti. Ok. 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 Ok, tutto. Prendi la mano. Vai. Ok. Ok. Perfetto. Maybe, first take a minute to get accustomed to the bus. Just drive around the building until you feel at ease. Ok. 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 questo setro mi piace ok come faccio andare indietro per andare indietro ok ok qui go ok ok direi che niente male allora ruota ok 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 1,2,3 ok voglio provare gli altri no voglio provare gli altri pullman voglio provare un altro pullman perché li fanno così incaderati prima mi dici vuoi provare un altro pullman e poi mi dici no vabbè andiamo andiamo chi se frega ok ok qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho rotto il pullman. Il tipo sembra avere dei problemi. Oh, sta dormendo. Ehi, amica, tutto bene? Sei bene? Non mi sembra che sei tanto messa bene. Scusa, amica, tutto bene? Oh, ragazzi, mi sto proprio preoccupando. Ehi! Ah, ok, ci sei. Ok, ci sei. Aspetta. Allora... Allora, questo non mi funziona più, ragazzi. Ho scassato il pullman. Fermato, facendo l'imitatore. Aspetta l'avviamento. Oh, là, là. Ok. Ok, andiamo. Signora? Tutto bene? Hai un biglietto? Ok. Vediamo se è tutto a posto. Sediamoci per controllare. Eh, sì, sì, va bene. Possiamo anche andarci. Possiamo andare via? Dobbiamo rimanere qua per tutta la vita. Cos'è successo, ragazzi? Aiuto? Ok. Allora. Open, open. Ok. Puliamo questo. Ok. Ok, engine. Ah, ma forse è per questo che non andava. Forse... Eh, forse... Preno. Già ho rotti, ragazzi. Ho rotto il pullman. Ok. Ho rotto il pullman. Aspetta, forse le porte. Eh, esattamente. Le porte. All. Ok. Questo è il pullman, eh. Questo è il pullman, eh. non è niente male. Non è niente male. Uh, un bel trofeo. Ok. Allora, per... Ok. Andiamo avanti. Ok. Quindi, luci spente. Ok. Motore... Off. Voglio andarmene. Fai scendere. Ok. Ok. Ok, voglio provare il Mercedes. Andiamo di Mercedes. La signora salita? Allora, stesso discorso. Luci. Motore. Parcheggio. Porte. Sì, guidare si guida bene anche il Mercedes, eh. Sì, guidare si guida bene anche il Mercedes, eh. Motore. Ok, quindi... Motore. Porte. Oh, cacchio. Rola. Motore. Porte. E luci. Ok, adesso, per scendere, fai scendere. Ok. Perfetto, dai, ho capito i comandi. Andiamo su Setra. Perfetto. Luce accesa. Credo di averlo lasciato acceso da prima, eh. No, qui... Il fattore è che... Credo di averlo scassato. Interazione notifiche. Perché fa così? Prenato distrazionamento... Questo l'ho tolto. Disattiva, non c'entra. Controllo velocità no. Modalità visuale no. Sendere motore. C'è qualcosa che lo frena Ho scassato il Ho scassato il setra ragazzi Quello che mi piaceva di più Non ci credo Attiva Guida retromarcia Attiva Disattiva motore Ok Guida Si muove ma non va più Allora secondo me è una questione di luci No le luci sono accese Il motore c'è Attiva disattiva abbassamento Ok Caricato Per accelerare Accelera Credo di averlo rotto A sto punto Perché Accelero E lui non va Credo davvero ragazzi Di avere rotto il pulmon E' come se non ha più trazione Modetta visuale Specchietto passeggeri No no Allora io voglio questo Che è più grosso Però non ce lo facciamo Scassato sto pulmon Vediamo Il Il man Visto che l'ho fatto scassare Vai Vai di mano Ok Ok Penso di averli Lasciati accesi Ah no Ok Ok Oh Mi ha toccato dentro Scusi eh Scusi eh Ok Ah Devo accendere i fareti Aspetta Nanti Ok Andiamocene dai Andiamo Ho deciso Andiamo di mano Vuoi questo modello Ottimo allora Sì Questo bus Scegge Il nuovo sistema Di trasporti pubblici Di Angel's Tour Allora prima viaggio Ok Ok Devo andare di lì Allora io sono un pulmon Oh Ciccio Ah Anche i passanti Cioè Non vedi che sta uscendo Sta uscendo un pulmon Raga Siamo seri? Chi è che mi ha brancato dentro Ho sentito un boom Dai La prima fermata è questa Non credo Allora vi dico la verità Graficamente è bello indietro Però A gameplay ci siamo E' un po' come Quell'altro di camion Che avevo guidato io E l'ho così platinato Perché poi ci aveva un bug Quindi Allora Ho due minuti Per arrivare là Eh raga Eccola là Eccola là Vai 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 Ok Allora Apriamo le porte Buongiorno Buongiorno a tutti A nostra Maiden voyage Questo è così bello Non ho mai fatto parte in una maiden voyage Vedi? I nostri passanti Sono quasi asciutati Come sono Assurati che tutti i passanti hanno portato il bus Closate le porte E siamo pronti Per andare È meglio Indicare Che stai lasciando Il stop Ora Siamo? Forza ragazzi Si parte Siamo? 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 Verde Verde Allora Guidare si guida bene Chiaramente Non ha né True Force Né Assolutamente Niente Ok Andiamo Bello Largo Sennò branchiamo Dentro Lo spigolino È un po' come quando Si guidava col camion È un po' come quando si guidava col camion È un po' come quando si guidava col camion Ok Entrate amici Avete pagato? Oh Sembra che c'è un passaggio Eh Fai vedere il biglietto Che tu Mi sa che venivi dentro senza biglietto Ma si può rimanere sulla porta Porca miseria Che ho tutti gli orari Fissati io Allora è molto bello Tutto migliorabile graficamente Ma almeno il gameplay ci siamo Stai calmo Ok Ecco qua che vedo Chi entra Chi esce Ovviamente Devono farmi il biglietto Ragazzi Eh Avete fatto il biglietto? Eh E stendiamo la rampa Perché c'è una persona disabile Vai Perfetto Ok Waiting for the complete Perfetto Oh Bravissimo Buongiorno Hi Asch It's good to see you Thanks for joining us today Having a public transport system in our city Will make getting around a hole or easy That's great to hear Enjoy the ride Allora Che è te suon Scemonini Attenzione che c'è un pedone Audrey and I We're really liking it here Especially the beach Dai dai Vai al rallentatore Muoviti Eeeh Te devo suonare mezz'ora Attenzione che c'è un pedone Ragazzi Questo è lo schizzo Oh C'è un bel traffico oggi Oh Oh È verde Muoviti Che cavolini di Bruxelles Che te suoni Oh Cos'era Ok Giriamo Oh la la Ok Vediamo i biglietti Stop Ok Vai Perfetto Apriamo Biglietti Ordinario I'd like to buy ticket please Hey Jackie How are you? Biglietto ordinario Stampa Ok 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 Giornaliero Uno Stampa Ok Allora Già Già ricevuto Sei Devo dare Tredici Oh Che meraviglia Che meraviglia Che meraviglia La strada La strada è messa male Oh Allora Scravatissimo No Ok Ok Stai calmo Ok Vediamo se tutti scendono Hanno tutti pagato Tutti pagato estendiamo la rampa chiaramente il ragazzo deve uscire prego prego tranquillo si effettivamente è stato bello forse sono le porte che si chiudono io pensavo che era uno dietro che mi suonava ma ragazzi devo andare al drive to the port quindi ho fretta frenaci no gringo ma tu ci hai passato con il rosso dai il tipo ha passato con il rosso davanti a me ooooh 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 ahahahahah scleratissimo ooooh ooooh ma non lo vedo il deposito no, non credo non credo che era questo ah, il deposito è là, raga, scusate ma le ho chiuse le porte eccolo lì, il deposito sì, ma tutta la strada di si è stata ci vado di muso ottimo garage, brake lights sì, che è inizion le porte oh wow oh raga benvenuti a Angel's Shore partiamo con la prossima adventure va bene vediamo il nostro nuovo bus puoi prendere ogni volta che vuoi puoi prendere il bus, parlare al driver e prendere il ruolo grazie ok dai non mi dai più una mano, faccio tutto io vai tranquilla è successo qualcosa ho fatto un giro il girello cacchio dai ho 39 secondi già sto fallendo il primo incarico giornaliero ascolta dai ciccio scusa eh indicatore forza ragazzi porca loca mi sono un po' perso eh caspita sto brancando dentro e ce la farò a girarmi qua gira forte gira forte eh gira forte eh gira forte eh ok allora ragazzi ho cannato completamente il giro sono a 20 secondi di ritardo per esercizio per esercizio non è che si capisca tanto bene sul gps per esercizio vecchia scusi eh ma ok 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 ci sono ok dai dai ragà forza ok questo è anziano allora corsa singola ok 20 dollari ma cacchio dici prego 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 signore andiamo andiamo subito la prima è saltata la prima fermata devono andare a piedi fermiamoci prima delle strisce vai forza dai forza dai che sono in ritardo è solo un autobus ragazzi forza c'è la gente che deve andare a lavorare mettiamo in ritardo cacchio che botte ok raga forza forza veloce veloce ho sbagliato ho sbagliato dai ok vai ok allora anziani corsa singola stampa 10 dollari perfetto questo vuole studenti corsa singola 3 vai 26 e 5 dollari perfetto oh ancora studente corsa singola 1 10 dollari ma ti paghi con 10 dollari ma stai impazzito vai a posto mi state portando via tutti i soldi allora vai comunque ragazzi mi sto diventando di brutto eh va bene che farò mai oh cacchio scendete scendete ragazzi ok cosa vuoi tu biglietto ordinario singola mi dai mi dai sempre 10 dollari secondo me lo fanno a posto per cambiare ragazzi perché a sto punto oh ti ho dato un po' di monetine così la prossima volta te lo fai prima di salire sul mio autobus di biglietto secondo me dovrei mettere anche la freccia forse oh fermoli questa manovra non l'ho capita però l'abbiamo fatta senza incidenti quindi ci sta ecco qua ok uno che guida così mi farebbe venire un po' di paura a salirsi sotto forza dai forza forza che non abbiamo tempo da perdere buongiorno buongiorno oh subito a scassare allora ordinario non lo poteva fare prima signora brava almeno hai avuto l'accortezza di usare i 5 dollari e le do un po' di spicci va bene prego ah anziani ma lei non potrebbe farselo prima che non c'è niente da fare di giorno ok uno col 10 dollari anziano sei più ricco di ti do un po' di spicci così la prossima volta smetti di farmi fare il biglietto dai ragazzi non abbiamo tempo da perdere dai calmo oh allora andiamo veloci che credo di essere passato con il rosso ragazzi non si fa ah vedi correct anche indicatore perfetto forza grandissimi vai capelli verdi ciao un sacco di soldi un sacco di soldi un sacco di soldi oh 5 posizioni wow route 12.000 manutenzioni winchia 12.000 dollari raga abbiamo sbagliato a fare il lavoro tutti mamma mia tanti soldi eh raga dopo che si riesce a imparare parcheggia concessionario la motivazione perché me lo fa parcheggiare qui ragazzi io devo parcheggiarlo qua sopra 10 vado ok la porta anteriore seguimila fino al terminale va bene compra un'auto un nuovo autobus ma perché me l'ha fatto parcheggiare ma perché me l'ha messo qui che l'ho parcheggiato giusto ah perché c'è la tipa che se ne sta andando vabbè ci sta dove sei mira come corre lion city citarro etc uuuu un viro lions urban way elettrico uuuu dai c'è anche quello londinese ma è bello bello allora dai compriamone uno e poi chiudiamo questa live allora questo qui setra vai come 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 ti piace questo bus se cambiate la mente puoi 選ere un altro al terminale se si 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 a te che era su questo si guida bene raga si nuovo di zecca ok andiamo mi fanno comprare l'autobus nuovo e poi c'è le strade così schifose andiamo al concessionario amici miei questo gioco con una grafica più bella è spettacolare raga è proprio base così per fortuna che meno quando va dritto urca loca urca loca lo fanno un po' più strettina dobbiamo guidare l'officina sbatterlo dentro e ci vediamo nel prossimo video con bus driver 21 ps4 io spero che facciano una patch per farlo diventare ps5 perché è veramente veramente figo assolutamente stai calmo per farlo diventare ps5 per farlo diventare ps5 ok Diciamo che Bisognerebbe star qua a scrivere Marco Trams No dai Che schifo Non si fa a cancellare Cancello Ok Pubblicità Non ce l'abbiamo Interni No, facciamo le tammarrate Vabbè questo non lo so Applica modifiche Applica tutto di Orbus Bella lì Io voglio andare a vederlo Bellissimo Oh Mi piace Mi piace il mio bus Allora ragazzi da Bus Simulator Marco Drams Games è tutto Ci vediamo al prossimo video Con questo gioco che Allora a livello proprio Grafico non è il top Ma a livello gameplay Gioco E quello che c'è da fare È finissimo Lo ritengo il migliore di Pullman Ciao ragazzi Alla prossima Mi raccomando di seguire Marco Drams Games Channel Su Youtube Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch Twitch per le live Assolutamente tutti i giorni Youtube per i Video Di tutti i giochi Traficchissimi E tanto 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 altro Unboxing Trucchi, soluzioni, trofei Tutto 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 E gameplay Assolutamente Giochi online E sempre sempre pubblico le mie live Da Twitch Le pubblico su Youtube Ciao a tutti ragazzi Alla prossima Marco Drams Games Channel È tutto Bellissimo Bellissimo 2021 Ciao Ciao